Il Signore, in un testo che ci ha dato, ci ha parlato di costruzione, ci ha detto «Finora avete lavorato molto e avete concluso poco, siamo tutti chiamati a costruire». E l'idea base questa mattina è questa costruzione della Casa del Signore. E la Casa del Signore è la Chiesa. La Casa del Signore è la nostra famiglia. La Casa del Signore è la nostra comunità. La Casa del Signore è ciascuna di noi. Per cui abbiamo un quadrifoglio davanti a noi. Tutte quattro le foglioline sono innestate in questo stelo che è la costruzione. Il testo che abbiamo scelto è quello di Paolo ai Corinzi, prima lettera, capitolo 3, 10-17. «Ciascuno stia attento come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso da quel che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, oppure legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile, la farà conoscere quel giorno che si manifesterà col fuoco. E il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa. Ma se l'opera ferirà bruciata, sarà punito. Tuttavia egli si salverà, però come attraverso il fuoco. «Non sapete che siete tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Se uno distrugge il tempio di Dio, Dio distruggerà lui, perché santo è il tempio di Dio che siete voi». Prima i Corinzi, 3, 10-17. Il fondamento su cui si costruisce è sempre Cristo Signore. E' su di lui che si costruisce il corpo. Il corpo che possiamo considerare in un quadrifoglio la Chiesa, la famiglia, la comunità e la nostra vita. Tempio di Dio è la Chiesa, Tempio di Dio è la famiglia, Tempio di Dio è la comunità, Tempio di Dio è il nostro cuore. Tre categorie di persone, secondo il materiale che viene usato. Ci sono colori che costruiscono con materiale che prendono da Dio. Dice a Geo, nel testo citato, il seguito del testo citato, «Sarite sulla montagna, prendete la legna che io vi darò, scendete e con questo costruite il mio tempio». C'è un materiale che ci viene offerto da Dio per la costruzione. E sono oro, argento, pietre preziose. E l'oro della carità, l'argento della preghiera, le pietre preziose delle virtù. E' l'oro che nasce dallo Spirito di Cristo, effuso dentro i nostri cuori. E' con l'amore che si costruisce la comunità. E' lo Spirito che amalgama gli uni agli altri e che dà il soffio vitale, perché egli è calore di vita. E' la preghiera, l'argento, che amalgama la comunità e fa tintinnare la voce degli angeli in mezzo a noi che cantano al loro Signore. Una comunità si costruisce con la preghiera, la preghiera ispirata dall'amore, dalla carità. Si costruisce con le pietre preziose, che sono le virtù di Cristo. Le dodici pietre preziose, che sono le dodici virtù di Cristo, che sono dentro di noi e con cui noi costruiamo la comunità. Se noi fabbrichiamo la comunità della Chiesa, la comunità della famiglia, la comunità nostra e il nostro cuore, con oro, argento, pietre preziose, siamo buoni costruttori e collaboratori di Dio. Ma possiamo anche noi usare altro materiale, il materiale umano, legno, fieno e paglia, anche qui la trilogia, che corrisponde alla trilogia divina, oro, argento e pietre preziose. Si può costruire con il legno, con il fieno, con la paglia. Sono modi umani di costruire. Non è l'efficientismo che costruisce la comunità. Non sono le cose effimere, come paglia, che dispersano, né col fieno, che mangiano gli animali, che si costruisce la comunità. Né quella della Chiesa, né la comunità familiare, né la comunità carismatica, e neanche il nostro cuore, l'amore di Dio. Ecco allora i due costruttori, due serie di costruttori, quelli che edificano con il materiale di Dio, quelli che edificano con il materiale umano. Ma c'è una terza categoria. Coloro che dicono di costruire, ma demoliscono. Sono coloro che iniettano nella costruzione materiale esplosivo. E al momento opportuno fanno crollare la comunità. Creano dei buchi nella comunità, minano l'unità della comunità. Della Chiesa, della famiglia, della comunità carismatica e del proprio essere, nella propria vita. Ma guai a chi distrugge il Tempio di Dio. Perché Dio distruggerà lui. Dunque abbiamo due categorie di costruttori e una categoria di distruttori. Pur associati nell'opera visibile di costruzione. Però verrà l'ora dalla prova. La prova che è il fuoco. Il fuoco che dimostrerà l'opera di ciascuno. Se tu hai costruito con oro, argento, piede preziose. Se tu hai costruito con pieno, paglia, legno. Se tu invece di materiale hai messo polvere esplosiva. Se tu hai messo opere incendiaria, il fuoco lo dimostrerà. Qual è il fuoco del Signore? Poi ritorneremo su questo. È il fuoco dalla prova. La tentazione. Che non verrà mai a mancare. Finché siamo qui sulla terra, siamo continuamente tentati. Perché c'è uno dietro di noi che non vuole la costruzione. Ed è il distruttore. Ed egli tenta. C'è la sofferenza. A cui tutti siamo sottoposti. Ed è nella sofferenza che l'oro viene provato. Se è veramente oro e se ci sono incrostazioni, le incrostazioni cadono. C'è la malattia. Che dimostra se veramente noi abbiamo edificato. Con fiene e paia. Oppure se noi abbiamo edificato con piede prezioso. Oria argento. C'è soprattutto la persecuzione. Che dimostra. Se noi siamo dei buoni edificatori. Se l'opera nostra è buona. C'è poi il grande deserto della vita. Il deserto. I nostri padri furono tentati nel deserto. Cristo fu tentato nel deserto. Sono le prove di fuoco a cui il Signore ci sottopone l'opera nostra. Tutti siamo approvati. Cioè Dio fa la prova per ciascuno. È detto più volte nelle scritture. Dio mette alla prova. Mise alla prova Abramo. Mise alla prova Job. Mise alla prova Sua madre Maria. Mise alla prova Gesù, Suo figlio. Tutti siamo messi alla prova. Sono i tre punti che voi esaminerete nei gruppi di studio. Cioè il materiale di costruzione. La prova del Signore. L'esempio. Di Aramo, Job, Maria, Gesù. E adesso ritorniamo sulla nostra trattazione. Farete o tre gruppi, o sei gruppi, o nove gruppi. Trattando questi tre punti. Potete anche scegliere di trattarli insieme, se volete. Però, crede che il materiale è molto. Ebbene che il materiale venga trattato in tre sedi. Cioè, la prima sede, che può essere o un gruppo, o due gruppi, o tre gruppi. Il materiale di costruzione. Poi, l'altra sezione è la prova del Signore. Le prove. E poi, il modello, come vincere alla prova. I modelli che ci vengono dati. Il modello di Abramo nella fede. Il modello di Job, della sofferenza e della malattia. Il modello di Maria, nella fedeltà a Dio. E nell'assoluto deserto. L'esempio è di Gesù, che compendia tutti questi tre aspetti. E ci dà la prova di come l'uomo deve vivere davanti a Dio. Detto questo, ritorniamo un po' sul nostro insegnamento, sul corpo dell'insegnamento. Ho detto che il corpo di Cristo è la Chiesa, la famiglia, la comunità, la vita nostra. Non ci soccorre il tempo per trattare di queste quattro foglie del quadrifoglio. Però abbiamo davanti agli occhi questo quadrifoglio, perché ci servirà anche nella nostra vita come punto di riferimento. Tutti siamo chiamati a costruire la Chiesa. La Chiesa è tutta ministeriale, ci dice il Papa. Per cui i fedeli sono chiamati a distribuirsi nei tre settori. profetico, sacerdotale, regale. Perché tutti esercitiamo il ministerio di Cristo. E dobbiamo edificare col materiale divino, quello che Cristo ci dà. O meglio, quello che lo Spirito ci dà, e fabbricare su Cristo, pietra angolare e preziosa. Non ci può essere altro fondamento. Su questo punto io insisto molto. Perché se fabbricchiamo su altro fondamento, noi fabbrichiamo in vano. Il fondamento unico è Cristo Gesù. Questo vale per le altre religioni. è venuto nel giornale ieri che cinque persone hanno trovato il rifugio, cioè si sono abbattezzate, diremmo noi, nel buddismo. ci sono le chiese orientali, diciamo, le conventicole orientali, le religioni orientali, che hanno tutto il nostro rispetto, ma non hanno come fondamento Cristo. Hanno quasi tutti come fondamento il sé. l'io, l'atman, che deve raggiungere la perfezione o l'annientamento. Noi abbiamo come fondamento Cristo, non abbiamo il sé, non abbiamo l'io, e il capovolgimento di valori, di visuale. Noi ci fondiamo su una persona che è Dio, umanato. Egli ci prende in sé e ci costruisce in sé mediante il suo spirito. E noi siamo i suoi collaboratori e fabbrichiamo nella fede, nella speranza e nell'amore. cioè nell'oro, nell'argento, nelle pietre preziose e nella fede in Cristo, nella speranza in Cristo e nella carità di Cristo che noi fabbrichiamo la Chiesa di Cristo. Ma, come vi dicevo, questo è una fogliolina del quadrifoglio.